Oltre le distanze noi restiamo aperti. Quella che vi propongo questa sera è una semplice esperienza di una potenza incredibile, è un'esperienza che vi porta ad aumentare la vostra consapevolezza rispetto alla tendenza che tutti noi abbiamo di lamentarci. Ci lamentiamo, giudichiamo, puntiamo il dito, notiamo tutto quello che non funziona nelle nostre vite e non ci rendiamo conto di tutto quello che invece va per il verso giusto. È una questione di attenzione, è una questione di scelta e la lamentela nuoce, nuoce gravemente alla nostra salute perché sappiamo che lamentarsi aumenta la nostra condizione di stress, abbassa le nostre difesi immunitarie e ci mette in una condizione di malessere, di provare emozioni depotenzianti e per contro l'apprezzamento che è l'altra faccia della lamentela ci fa invece un gran bene. E l'esperienza che vi propongo di fare per aumentare la consapevolezza della tendenza che abbiamo di lamentarci, di non assumerci le responsabilità di ciò che sentiamo, di ciò che proviamo, è quella di prendere un vaso oppure una piccola semplice scatola di cartone e di metterci sopra un'etichetta con scritto brontolario e quel vaso o quella piccola scatola, quel piccolo contenitore mettetelo bene in evidenza e ogni volta che vi riscoprite a lamentarvi per qualcosa o ad esprimere un giudizio verso qualcuno, ma anche verso voi stessi, metteteci dentro 50 centesimi, un euro. Vedrete nel giro di poco tempo quanto i soldi che accumulerete dentro questo contenitore cresceranno, ma crescerà per contro anche la consapevolezza di utilizzare determinati pensieri, di utilizzare determinate parole e solo nel momento in cui ne diventiamo consapevoli noi siamo anche padroni di modificare i nostri pensieri e di modificare le nostre parole. Quindi allenatevi con il brontolario e condividete se avete piacere i risultati che otterrete. Buona serata a tutti.